Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Training Talent Show Coaching. Vi leggo il disclaimer e poi partiamo con l'evento di questa sera. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza gli autori a TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, il training di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio che non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Questo webinar è presentato da me, Cirico, la country manager Italia di TICMIL, con me questa sera come per gli altri appuntamenti il nostro coach Marco D'Andrea. Marco mi senti? Sì, ti sento benissimo Giuseppe. Tu mi senti bene? Sì, ti sento benissimo. Allora, prima di entrare nel vivo dei vari argomenti che andremo a trattare questa sera, faccio una presentazione del broker come sempre così vedo che stanno entrando anche un po' di persone quindi ne approfittiamo per presentare il broker e poi partiamo con i vari argomenti. Quindi TICMIL è un broker non di Lindesk con commissione tra le più basse del settore spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione dalla FCA UK, quindi i fondi sono assicurati fino a 50.000 sterline, non ci sono limitazioni sui profitti. Sono benvenuti tutti gli expert e le varie strategie di scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta. Non ci sono recuote e grazie alla velocità di esecuzione ultra rapida con una media di 0,1 secondo c'è la possibilità anche di ricevere degli slippage positivi. Abbiamo quindi oltre garantito questa velocità dagli oltre dieci server sparsi per il pianeta. Quindi copriamo un'ampia gamma di mercati, quindi tra Forex, CFD su indici, tra cui il nostro Futsimib, Materie Prime, Metalli Preziosi e il Bitcoin. Inoltre diamo come ausilio all'operatività del trader strumenti come AutoChartist, la WPS in sconto, il one click trading e la demo illimitata. Non ci sono costi su prelevi e depositi. Abbiamo un interessante programma partner di Tickmill e siamo uno tra i pochi broker ad offrire anche l'assistenza sulla dichiarazione che se non sbaglio Marco siamo quasi in periodi appunto di dichiarazione dei redditi quindi qualora voleste avere una consulenza potete contattare Marco che oltre ad essere un bravo trader è anche un bravissimo commercialista e quindi potete contattarlo all'email che leggete qui in basso, qui nella slide. Questa è una mappatura dei nostri server, quindi oltre a 10 server oltre a quelli più importanti, poi ci sono quelli di backup abbiamo, come dicevo, le commissioni tra le più basse del settore non lo diciamo noi, potete controllare direttamente su siti esterni come MyFXbook e vedrete che Tickmill ha quasi sempre le migliori condizioni di training comprese le commissioni rispetto alla maggior parte dei competitor. Potete poi provare senza nessun rischio come si dice in questi casi senza nessun impegno il nostro conto di prova con denaro reale quindi non è richiesto un deposito, basta inserire una vostra email e vi verranno accreditati su questo conto di prova 30 dollari che poi potete appunto utilizzare seguendo poi i vari termini e condizioni della promozione per qualsiasi richiesta potete contattarmi all'email che vedete giuseppichiocciolaticmill.co.uk Allora, partiamo con il Training Talent Show coaching Marco tu sei pronto? Io ti seguirò con le slide e poi magari facciamo anche qualche esempio sulla piattaforma e quindi ti lascio la parola Sì, buonasera a tutti allora entriamo diciamo nella fase finale diciamo di quelle che sono fondamentalmente i concetti base per poi diciamo entrare nel vivo della diciamo della trattazione quindi dell'operatività in senso stretto quindi detto in termini magari più semplici finisce la parte noiosa con gli ultimi due webinar per chi magari è un po' più avanti con le nozioni e invece comincia a diventare interessante per diciamo chi invece conosce già le basi e quindi vuole giustamente buttarsi nella mischia del trading Rian o quantomeno con la demo o col conto reale che tra l'altro vi ho postato in chat il link per poter aprire in modo tale che possiate essere già praticamente operativi quello che mi piace parlare ovviamente su questi webinar voi non avete sentito parlare di analisi tecnica trendline in generale perché vorrei trasmettere qualcosa di diverso cioè io vi dico in generale basta che andate insomma su qualsiasi sito online insomma ci sono tanti gratuiti potete trovare tante informazioni o comunque andare anche in libreria e prendere buoni libri in analisi tecnica per chi è interessato a approfondire questi tipi di argomenti io sinceramente vorrei darvi un approccio diverso e praticamente darvi ben o male portarvi quanto meno a osservare quello che è il mio approccio al trading in generale perché solitamente molti pensano sono stato io relatore anche a Napoli a Rimini in generale quindi ho visto ben o male l'utente medio quello che fondamentalmente si aspetta da diciamo da un coach in generale che magari vogliono la tecnica nuda e cruda però io dico sempre che per carità conoscere una nuova tecnica è sicuramente importante però a mio avviso la vera qualità aggiunta la dà chi ti spiega le basi per formularla quella tecnica perché avendo le basi per formulare la tecnica a mio avviso potete riscontrare tantissime tantissime altre in generale io dico sempre che la piattaforma di trading è come quando paghi il biglietto per entrare a Mirabilandia paghi un unico biglietto e ci sono tante giostre su cui salire e ogni giostra ti dà un'emozione diversa perché ha una struttura diversa e lo stesso anche sul trading noi ovviamente tratteremo più avanti insomma prettamente il forex e qualcosa sul petrolio però in linea generale il nostro broker partner TICMID ci offre tantissimi strumenti e quindi vi invito dopo utilizzare quelle che sono le basi per andare a studiare la natura di ogni singolo strumento e andarvi fondamentalmente a generare la vostra tecnica che a mio avviso questo è il valore aggiunto che può dare sicuramente un coach a chi fondamentalmente lo segue ed è quello che io sinceramente mi aspetto da un corso premesso che io corsi non ho mai fatti con nessuno e ho fatto sempre da solo quindi se un giorno o quantomeno li ho fatti dei corsi ma non li ho fatti fondamentalmente a livello privato cioè li sono andati all'università seguendo magari anche qualche credenza fondamentalmente all'interno della famiglia io fondamentalmente sono stato fortunato da quel punto di vista che avevo un genitore uno zio e tanti diciamo dei parenti che lavoravano all'interno diciamo del che erano a contatto comunque con strumenti di borsa anche a livello diciamo istituzionale quindi in linea generale ho appreso così il trading non l'ho fatto attraverso un corso però se un giorno dovessi fare un corso e ovviamente non sono sempre a favore dei corsi e di comunque dei casi della cultura se ovviamente ben strutturata lo farei appunto da un qualcuno che mi può dare un valore aggiunto e non che io divento la brutta copia di quel qualcuno quindi quello che sarà il mantra da oggi in poi sarà il concetto di oggettività nel trading che è il titolo del diciamo della slide di oggi ma è proprio la base di tutti i prossimi webinar fino alle tecniche perché a mio avviso se dobbiamo parlare di tecniche se dobbiamo parlare di operatività devono essere un qualcosa di oggettivo oggettivo potrebbe essere anche sinonimo che quello che io faccio lo può replicare sia un bambino che un computer però detto così è troppo sminuito in generale non per forza il click lo deve fare il computer o non per forza deve essere un argomento semplice io sono per la semplificazione però in linea generale quello che voglio far passare come messaggio è qualcosa di oggettivo di replicabile cioè non deve essere ah c'è la trend se la buca sopra la buca sotto perché dopo ti ritrovi fondamentalmente in punti in cui sei a mercato reale e magari ci sono dei detti che ti dicono che ne so un supporto che prima era la resistenza poi è diventato supporto i supporti magari si longano le resistenze si shortano ti trovi diciamo in una terza fase di pullback e che fai vado long vado short e sei completamente in confusione quindi quella non è oggettività perché comunque nei casi sei in un ambito soggettivo dove ci sono delle regole che non sono univoche quindi dobbiamo completamente scartare toglierci dalla testa questi concetti che a mio avviso sono sbagliati perché comunque dei casi non portano appunto al discorso di oggettività quindi questo è il messaggio che voglio far passare innanzitutto e quindi cominciamo appunto a vedere quali sono gli elementi per crearsela questa oggettività la prima cosa a mio avviso su di pattern allora diamo prima una definizione insomma di pattern per pattern intendiamo a livello diciamo quantitativo il concetto di pattern è un comunque si traduce con algoritmo in teoria ovvero un atteggiamento oggettivo tale che ogni movimento è misurabile e comunque dei casi univoco quindi facciamo un esempio di un pattern di natura algoritmica ad esempio che ne so Marco tutti i giorni si sveglia alle 7 e se Marco tutti i giorni si sveglia alle 7 alle 7 e 5 va a lavare i denti quindi che cosa vuol dire che ho dato due frasi due definizioni che sono molto chiare oggettive per la quale se vera una è vera anche l'altra quindi questo che cosa va a creare va a creare un discorso univoco oggettivo che comunque genera un atteggiamento ripetitivo nel tempo ovviamente che cosa non è invece un pattern cioè un pattern è un qualcosa che si verifica oggi e poi non si verifica più o quantomeno se si verifica si verifica per una condizione casuale e non per una condizione oggettiva quindi ad esempio supponendo che ne so sono le 7 Marco si alza mette le ciabatte alle 7.5 fuori piove se Marco lo fa pure quando c'è il sole fuori piove non fa parte dell'algoritmo non è il pattern quindi semplicemente è un oggetto casuale che si è infilato dentro la struttura ma che fondamentalmente non c'entra assolutamente niente con quella struttura lì quindi la definizione appunto di pattern a livello quantitativo semplicemente è un atteggiamento oggettivo e ripetitivo nel tempo tale che è osservabile a livello statistico una cosa che vi voglio togliere dalla testa soprattutto è il discorso di analisi quantitativa con scienza qui di scientifico non c'è niente cioè quando vi dicono utilizzo un metodo scientifico nel trading vi stanno prendendo in giro per il semplice fatto che la scienza diciamo subisce quello che è il metodo scientifico ovvero c'è un'ipotesi c'è una tesi c'è un teorema c'è una dimostrazione c'è lo sviluppo del teorema e c'è la prova e la controprova quello fondamentalmente da una vera e propria legge che sono quelle che riscontrate nell'ambito della fisica quantistica e nell'ambito comunque dei casi della matematica in generale quando vi dicono trading matematico sono tutte cavolate cioè applicare due formule non vuol dire fare trading matematico significa utilizzare la matematica all'interno del trading che è diverso c'è una differenza sottile ma a livello diciamo di espressione vera e propria è completamente differente il trading non è nulla di scientifico perché se ci fosse una regola saremmo tutti ricchi perché una volta che comunque dei casi uno scopre la regola cioè la regola è quella cioè le soluzioni sono tutte quelle tant'è che il teorema di Pitagora se lo applichi nell'ambito giusto di cui devi applicarlo tu riesci a risolvere tutti i problemi del mondo col trading non c'è la soluzione quindi il famoso santo cralle che la formula che fa guadagnare sempre in tutte le occasioni tutti i giorni tutti i mesi non esiste non c'è un atteggiamento lineare del trading diciamo vi sto traducendo in termini molto semplici quella che è la differenza tra una curva lineare e una gaussiana il trading è gaussiano cioè ha una curva fondamentalmente che ha più variabili all'interno che non lo rende scientifico mentre le rette ha l'equazione l'equazione della retta è y uguale x e finisce là insomma e può essere al massimo moltiplicata per quanto riguarda invece quelli che sono i pattern di analisi tecnica in linea generale parliamo di pattern di analisi tecnica che sono quelli che vi dicevo prima che trovate scritto su tantissimi libri per la quale sono collegatissimi all'analisi quantitativa perché comunque sono sempre pattern prendiamo ad esempio i più conosciuti le famose pin bar che sono l'hammer l'inverted dammer la shooting star e l'engine man fondamentalmente la struttura a livello grafico è la stessa è identica per tutti cambia solo il colore del corpo della candela e la posizione del lasciato che due hanno lasciato verso il basso che sarebbe la coda quindi quella diciamo quella lineetta nera che trovate molto pronunciata e fondamentalmente poi lo guardiamo sulla piattaforma e comunque dei casi quindi vediamola adesso così ti faccio un po' respirare che ok il discorso magari vediamo se se troviamo qualcosa vabbè guarda una già ce l'abbiamo sulla sinistra vicino a quella candela di esplosione di volatilità se scendi con il mouse allora allora guarda scendendo verso sinistra abbiamo questa qui fondamentalmente no quella diciamo in basso questa è una pinbar eccola qua ad esempio c'è di sopra col mouse esatto quella è una pinbar che ha diciamo un colore in questo caso in teoria l'analisi tecnica fa verde e rosso qui Giuseppe o poi ognuno se li imposta come gli pare a lui i colori insomma in linea generale io ho avuto a che fare con delle persone che seguivo anche dal tonico che giustamente si sono impostati i colori che giustamente meglio gradiscono poi dovendo stare tante ore davanti al monitor giustamente uno si trova l'accoppiamento di colori che meno gli stanca l'occhio sono anche questi insomma dei come si dice degli elementi oggettivi che fondamentalmente possono o meglio soggettivi che possono sicuramente andare a influire insomma sull'operatività comunque la coda fondamentalmente detta anche shadow in termini inglesi è quella diciamo linea nera che troviamo sotto il corpo della candela il corpo della candela vabbè spieghiamo le regole basi insomma il corpo della candela si forma tra la chiusura e l'apertura della candela ovviamente se la chiusura è sopra l'apertura la candela sarà positiva quindi solitamente verde se invece la chiusura è sotto l'apertura vuol dire che il corpo della candela sarà negativo quindi la candela è a rendimento negativo e quindi sarà di colore rosso se diciamo apertura e chiusura sono molto vicine è molto probabile che ci sia stato un allungo sui massimi o sui minimi tale che ha portato diciamo con un unico movimento un allungo a ribasso e un riassorbimento di stessa entità e forza tale che appunto ha creato quella che viene chiamata in teoria nell'analisi tecnica candela di compressione di volatilità perché c'è un corpo piccolino i rendimenti sono praticamente nulli però c'è stato invece uno spostamento diciamo del massimo o del minimo quindi del range se ve lo ricordate l'altra volta facevamo vedere il grafico quello lineare dove i massimi e i minimi nemmeno li prende in considerazione quindi ci sono varie teorie lì da quel punto di vista per me ad esempio l'analisi tecnica già sbaglia su questi concetti cioè dire che una pin bar è una candela di compressione di volatilità a mio avviso è sbagliato perché ci possiamo trovare a lunghi potenti verso i massimi o verso i minimi tali che tu ti ritrovi diciamo uno spostamento di prezzo piuttosto interessante e quindi quella non è una compressione di volatilità ma è una compressione di rendimento che è diverso e ovviamente poi a livello quantitativo si può approfondire che cos'è diciamo la volatilità storica e la volatilità dei rendimenti che ben o male sono la base dell'ATR e della deviazione standard poi li vediamo insomma con quando studiamo appunto gli indicatori per quanto riguarda quindi pattern classici di analisi tecnica fondamentalmente ci troviamo queste barre binocchio bin bar per la quale vengono chiamate così ho capito Marco a te piacciono oppure no queste queste sono utili sono utili perché fondamentalmente l'unica cosa che è inutile è diciamo la deduzione che danno gli analisti tecnici esatto io sono d'accordo con te anche perché c'è stata anche una dimostrazione ovviamente dovete sempre prenderle con le pinze questo perché vi sto per citare un libro che è dei primi anni 2000 quindi c'è parliamo roba vecchia di vent'anni ormai che è quello di Larry Williams io sinceramente consiglio a tutti almeno di avere libreria perché comunque è una lettura sempre interessante io dico sempre sui corsi non si spuda mai e nemmeno sui libri che è comunque cultura su quel libro lì c'è una cosa interessantissima che praticamente lui dice prende in giro i segreti del training di breve termine giusto? esatto esatto ne ha fatti due Larry Williams quindi c'è prendeteli pure tutte e due tanto comunque sono interessantissimi diciamo vi sintetizzo fondamentalmente quello che è la parte interessante la prima il money management che potete approfondire anche con una versione più aggiornata con Andrea Unger quindi il trattato di money management di Andrea Unger oppure appunto andare appunto a vedere quelli che sono i libri di Larry Williams per la quale oltre a parlare di money management vi dimostra come i graficisti lui li chiama chartisti ovvero coloro che fanno trading dal chart quindi fondamentalmente solo dal grafico li prende in giro perché hanno queste convinzioni che le pin bar vanno praticamente longate sui massimi se hanno lasciato verso il basso o shortate sui minimi se hanno lasciato verso l'alto lui ha fatto una formuletta sull'S&P500 sul treasury bond e sul gold per la quale tradava esattamente al contrario sul grafico daily queste pin bar e guadagnava e fondamentalmente con un attimo ha stravolto quindi con una tesi oggettiva ecco perché vi parlo di oggettività con un attimo ha stravolto quelle che sono tutte le credenze di tanti analisti tecnici che fondamentalmente queste credenze si possono nascere o per luoghi comuni perché come vi dicevo non è che c'è una legge che dice che quella candela va trattata in quel modo cioè non lo impone nessuno è un consiglio ma consiglio è dato da chi cioè io vi dico sempre su internet ci scrivono Giuseppe perdonami il termine porci e cagni cioè non sapete chi è quella persona che scrive quindi fondamentalmente la fonte chi è cioè vi leggete quella cosa detto per carità leggetela pure ma informatevi chi l'ha scritta quella cosa perché molto probabilmente potrebbe essere un improvvisato potrebbe essere una persona che predica bene ma poi vai a vedere non è razza o la male come si usa dire quindi in linea generale accertatevi sempre delle fonti io una fonte autorevole per la quale mi dice che una pinbar si tratta in quel modo in maniera profittevole non l'ho mai vista in vita mia e sono 11 anni che faccio trading quasi quindi in linea generale non a mio avviso vanno sempre riscontrate con i vostri occhi in generale e quindi questo diciamo i pattern in analisi tecnica io li trovo utili perché comunque dei casi però a livello di descrizione cioè che cosa ad esempio vi ho detto prima gli analisti tecnici dicono che la pinbar fondamentalmente è una candela di compressione di volatilità io ti dico che è una candela di esplosione di volatilità se la distanza tra massimo e minimo è più ampia di un valore x che possiamo dopo andare a studiare su un ATR vi faccio l'esempio se l'ATR a due periodi di un grafico ti dice che immediatamente si fanno 30 punti 30 pips a candela in quel time frame se la prossima candela è una pinbar che ha distanza tra massimo e minimo di 50 punti quella è una candela di esplosione di volatilità cioè non me ne frega niente che è una pinbar e non me ne frega niente che gli analisti dicono che va tradata in un modo o in un altro non sto a discutere quello discuto semplicemente il fatto che quella candela è una candela che ha dimostrato una forte esplosione tant'è che l'andamento chiamato orso ovvero ribassista è stato tale di una forza tale a quello toro cioè al movimento rialzista tale che ha creato una shadow e un movimento molto ampio quella è una candela di esplosione di volatilità c'è poco da fare aspetta questa questa ce la devi spiegare un po' meglio allora quindi ATR due periodi sì ma ho fatto un esempio possiamo metterlo come mi ci pare ad esempio facciamo sì facciamo no giusto per darci per seguire delle regole quindi ATR ad esempio due periodi ci dice che ne so sulla penultima candela perché ovviamente che è quella chiusa che valore ci dà che ne so ci dice che stiamo a 0.61 ok che fa 61 pips ecco in questo momento si sta creando una pin bar supponendo che questa pin bar ci aveva il massimo molto più giù del minimo della candela precedente e avesse fatto 100 pips tra distanza tra massimo e minimo quella non non me ne frega nulla dove sta l'apertura dove sta la chiusura io vedo la distanza massimo minimo quella è una candela di esplosione di volatilità semplicemente perché rispetto al valore precedente della volatilità storica quindi dell'ATR che misura l'oscillazione di range quindi da massimo a minimo delle candele precedenti in base al numero di osservazione perché un ATR a due periodi osserva la media delle ultime due candele un ATR a 100 periodi ti fa la media delle ultime 100 candele e si aggiorna per ogni candela togliendo la prima della vecchia serie quindi abbiamo 100 candele prendiamo la prima più vecchia numero uno e numero due ovviamente a livello di programmazione la prima più vecchia zero poi vabbè ognuno conta a modo suo insomma dipende poi dai linguaggi di programmazione eccetera eccetera ma non voglio parlare di questo se no complichiamo troppo le cose noi abbiamo una serie storica di 100 appena se ne aggiunge una la centesima viene praticamente ricalcolata e riponderata sulle 101 candele quindi poi mano a mano la linea dell'ATR che è semplicemente una media che fa un calcolo tra minimo e massimo l'ATR come visto che non sto parlando tanto è uno dei quegli indicatori di analisi tecnica che ha una valenza anche quantitativa perché che cosa ti dice l'ATR in base allo storico quindi a un dato storico precedente ti dice più o meno a livello probabilistico quanto potrà essere il range della prossima candela che si va a conformare e fondamentalmente è vero sì tutti gli indicatori di analisi tecnica si basano sul passato però da un altro punto di vista ti dicono anche che in base a una probabilità di calcolo su una media semplice quindi una media aritmetica ti dice quanto potrà essere la candela successiva ovviamente che cosa comporta questo che se la candela successiva fa il doppio del valore fondamentalmente tu non lo potrai mai scoprire prima ecco perché vi dico che non c'è una regola cioè il futuro qua non lo produce nessuno cioè non si può predire il futuro non c'è nessun nessuno strumento tranne fondamentalmente quelli che sono i modelli ARC e GARC dell'analisi quantitativa che possono stimare con più o meno precisione il valore futuro di una candela che ovviamente i modelli ARC e GARC lo possono fare solo sui livelli di volatilità quindi o per le opzioni o per gli strumenti che lavorano sulla volatilità ovvero il VIX il VSTOX eccetera eccetera ovviamente non li approfondiamo questi perché riguardano più gli indici si è fatto solo un accenno perché anche sono comunque argomenti complessi esatto cioè sicuramente non è alla portata di tutti esatto io sono il primo a non conoscere quindi manteniamoci sul semplice quindi al di là di tutto se ho capito bene comunque il concetto cerco di riassumerlo al di là poi della definizione che si dà comunque ai vari pattern di analisi tecnica quello che consigli tu e qualora appunto si utilizzasse un approccio del genere di non focalizzarsi troppo sulla definizione ma di andare a contestualizzare comunque diciamo lo scenario e di abbinarlo anche a un discorso di volatilità giusto? posso riassumerlo in questo modo? In termini sì riassuntivi sì però quello che invece vorrei fare ancora più semplicisticamente semplicemente limitatevi a osservare quello che fa quella candela non andate oltre cioè fregatevene se qualcuno vi dice che si tratta in un modo piuttosto che in un altro o quantomeno se qualcuno la definisce in qualche modo rispetto a un altro guardate semplicemente lo scenario oggettivo l'ultima candela che cosa ha fatto? ha aperto è scesa ha fatto il minimo è risalita e ora è poco sopra l'apertura stop quindi ha fatto un movimento in discesa cioè sto parlando dell'ultima candela che si sta conformando adesso se Giuseppe zoomi un pochettino sicuramente la vediamo ancora ancora meglio esatto esatto cioè come descriviamo questa candela la candela che ha aperto è scesa ha fatto un minimo è risalita quindi vi dicevo la famosa forza tra orsi che hanno buttato giù diciamo il mercato tra tori che l'hanno riportato su con la stessa forza e ora sembra che i rialzisti stiano avendo leggermente la meglio perché siamo in prossimità forse della chiusura della candela e siamo sopra l'apertura quindi limitatevi semplicemente a osservare questa definizione oggettiva poi che si chiama Pippo Paperino Hanging Man chiamatela come vi pare in generale ti faccio l'ultima domanda su questo aspetto qui facendo sempre riferimento all'ATR che dicevi prima ad esempio due periodi aspetto a un'esplosione di volatilità allora facciamo finta che ci troviamo qui queste barre qui non ci sono allora qui abbiamo un'ATR e ci dice che è mediamente di 50 punti sul WTI arriva questa candela se avesse chiuso allora è così ma se avesse chiuso qui qui sopra quindi dopo aver fatto questa pin bar andandosi a prendere chi dice si è andato a prendere gli stop qualsiasi leggenda metropolitana vogliamo associare a questa conformazione grafica è sbagliato ripetere nel tempo questo tipo di approccio cioè io aspetto l'esplosione di volatilità dopo seguendo la tua indicazione all'esempio dell'ATR due periodi mettendomi in bike qui sopra cioè secondo te un approccio del genere ripetuto nel tempo su vari scenari è un approccio che è sbagliato pur facendo riferimento all'analisi tecnica oppure no allora non è sbagliato perché stiamo semplicemente dicendo che ogni talvolta che c'è un'esplosione volatile andiamo in breakout long dei massimi supponendo che l'esplosione volatile sia verso l'alto ogni volta che brecca massimi entriamo long fondamentalmente questa è la struttura che tu mi stai dicendo ti dico non è sbagliata se comunque dei casi abbiamo dei dati storici a favore di quello strumento ecco perché vi dico studiate lo strumento per il semplice fatto che se quello strumento ogni breakout risponde bene a quella logica vuol dire che magari aggiungendo semplicemente questo elemento dell'ATR vi torna utile un dato per la quale se la volatilità storica viene aggiornata al prossimo breakout fondamentalmente potrebbe essere interessante entrare a rialzo perché no però comunque va studiato a livello statistico però comunque sei d'accordo con me che io ho dato oggettività diciamo al pattern di analisi tecnica esattamente ripeto sempre lo stesso comportamento al di là poi che ci sia la pin qui l'ha lasciato come la chiamano di due terzi del corpo non mi interessa cioè l'importante è che ci sia una conformazione simile a quella chiara che comunque abbia diciamo non delle regole perché comunque l'hai detto anche tu oggettive è quasi impossibile averle però seguiamo sempre la stessa logica in modo tale che appunto su un lungo periodo possiamo avere dei riscontri statistici sicuramente molto più reali rispetto a quelli che poi possono essere le semplici supposizioni di dire la pin bar hai preso lo stop perché la pin bar ecco queste cose qui a me sinceramente non piacciono quando sento la pin bar è andata in stop perché lasciato non era i due terzi del corpo e quindi per questo hai preso lo stop perché non hai seguito la lettera questa regola e lì secondo me è un po' comunque lascia il tempo che trova infatti torniamo al discorso se la regola ve la dice un andamento statistico che avete fatto voi alzo le mani ma se la regola l'avete letta sul blog di Paperino perché dice quelle cose e vi fa vedere magari qualche segnale che andate a un guadagno vi dico tranquillamente può essere pura casualità in generale quindi dovete sempre avere un riscontro dal punto di vista oggettivo quindi comunque una serie storica un qualcosa cioè ad esempio vi faccio un esempio prendiamo un luogo comune ad agosto c'è sempre il sole è un luogo comune però se andiamo a studiare allora prendiamo gli ultimi vent'anni ci andiamo a osservare due dati andiamo a vedere se innanzitutto le temperature sono state a supporto di questa teoria quindi andiamo a vedere la media delle temperature che ha fatto ad agosto e poi ci andiamo a studiare se con i dati se ad agosto la maggior parte dei giorni che sono 31 quindi almeno 16 hanno avuto il simbolino del sole se noi abbiamo questo dato vuol dire che non è solo un luogo comune ma è anche un dato supportato da statistica con uno storico almeno di 20 anni e ci andiamo a studiare ben o male tutta quanta la situazione ma se la leggiamo sul blog i blog li scrivono chiunque ad oggi quindi quando leggete un blog come minimo andate ad accertarvi chi è che scrive quel blog che esperienze ha che curriculum ha io non dico che comunque dei casi per essere bravi trader bisogna essere per forza laureati specializzati eccetera eccetera assolutamente perché ho visto pure persone brave che vendono il giornale e si interessano di borsa e comunque sono bravi cioè oltre a essere brave persone sono anche bravi trader in generale però io vi dico che nella mia piccola esperienza ho visto gente che vendeva fino all'altro giorno corsi di inglese poi hanno scoperto che con la finanza e la vendita dei corsi si guadagna un sacco di soldi e allora si sono messi a vendere corsi solo perché sanno vendere bene ma non è detto che siano bravi perché comunque ormai ad oggi insomma risaputo con il marketing fa miracoli attraverso un buon marketing si vendono pure i preservativi alle suore insomma in generale si riesce a fare anche questo quindi fondamentalmente dobbiamo sempre avere l'idea un pochettino chiare di chi abbiamo davanti io ad esempio Marco sento la tua voce un po' robotica quindi non so se hai qualche problema di connessione ora mi senti meglio? sì vediamo prova allora quindi riprendiamo il discorso fondamentalmente ovviamente Giuseppe bloccami se riscontri dei problemi di audio quindi tornevamo appunto al dire fondamentalmente quello che in linea generale eh però purtroppo Marco non ti sento proprio benissimo non so voi in chat se sentite bene Marco allora forse è un mio problema scusa allora tu Marco quindi passiamo adesso alla passiamo alla la slide degli indicatori e oscillatori giusto? eh sì ci stavi ok perfetto eccoci qua indicatori e oscillatori quindi come vi dicevo prima sempre attenzione insomma a chi prendete spunto e avete sempre avere sempre un occhio critico in quello che leggete passiamo quindi a quelle che sono gli indicatori e oscillatori gli indicatori e oscillatori fondamentalmente beh la differenza di concetto tra indicatore e oscillatore semplicemente che l'indicatore ti indica un valore preciso l'oscillatore ti indica anche lui un valore preciso ma che oscilla tra un minimo e un massimo la differenza tra un oscillatore e un indicatore che tecnicamente si dice a livello di definizione un oscillatore è normalizzato che vuol dire che si muove tra una base e un tetto quindi tra se vogliamo utilizzare termini più più tecnici tra un supporto e una resistenza non di prezzo ma di valore dell'indicatore mentre l'indicatore stesso è fluttuante quindi può andare all'infinito o può scendere addirittura sotto zero quindi fondamentalmente non ha questa base supportiva o un tetto dal punto di vista quindi concettuale la differenza è questa ovviamente è facile perché se prendiamo la metatrader già ce lo dice quali sono gli indicatori o gli oscillatori cioè già dice indicatori oscillatori ad esempio oscillatori possiamo prendere ad esempio il più famoso di tutti e anche il più inutile per quello che mi riguarda è il CCI il commodity channel index fondamentalmente quello è un oscillatore perché oscilla tra un valore minimo e un valore massimo poi ovviamente può bucarlo di qualcosa o riassorbirlo di qualcosa in generale però si muove sempre in un range piuttosto ristretto per me è un indicatore sbagliato perché quanto meno è sbagliato almeno l'uso che se ne fa a molti che vanno a vedere divergenze convergenze tra il prezzo e l'indicatore io vi dico cerco di farvi capire dove sta l'inganno allora prendiamo sempre il discorso del grafico della temperatura sappiamo che siamo in Italia siamo a Roma siamo che mediamente il grafico della temperatura a Roma ci dice che fanno 30 gradi succede una grandinata a ferragosto è rara ma succede che vuol dire che la temperatura da 30 gradi scende a 15 ovviamente se a quel grafico della temperatura voi mettete fondamentalmente un CCI è ovvio che vi trovate una divergenza tra il CCI e il prezzo perché il prezzo fondamentalmente va a fare uno short perché si crolla la temperatura fondamentalmente mentre vi trovate il CCI che segna ancora un valore alto che cosa vuol dire semplicemente che il CCI è un indicatore come tutti gli altri che arriva in ritardo che cosa vuol dire che andando a siccome che è calcolato sulla serie storica derivante dal prezzo lui c'ha in memoria che a gusto la temperatura è alta quindi va in iper chiamiamolo ipercomprato cioè sta praticamente nella parte alta del grafico quindi vuol dire che si va a long ma se arriva una grandinata dove vuoi andare long sulla temperatura è normale che la temperatura scende quindi in linea generale fare quell'uso di divergenza è la più grande cavolata che potete fare in generale uno perché la dicono sui blog quindi già se fate l'esatto opposto di quello che dicono i blog ve lo dimostra Larry Williams che si guadagna da un altro punto di vista invece capite che c'è un concetto di base sbagliato perché come al solito guardano il grafico e non guardano le motivazioni per cui la temperatura è scesa cioè è stato quel famoso evento straordinario chiamatelo anche cigno nero che ha fatto fare la grandinata a ferragosto e quindi il grafico è crollato però ovviamente il commodity channel index ve lo registra forse 4-5 candele dopo è tardi ormai dopodiché la temperatura è normale una provocazione una provocazione su questo che stai affermando quindi non so vedi il grafico questa divergenza qui adesso un po' non è proprio perfetta ma la prima che ho trovato di questo oscillatore con il prezzo quindi questa cos'è tipo un'illusione ottica? non è che un'illusione ottica è semplicemente un comportamento del tutto casuale del grafico perché allora innanzitutto quell'indicatore che tu vedi lo vedi così in quel momento un indicatore è soggetto a repaint quindi nel momento in cui lo vedi così quando le candele sono chiuse nel momento in cui le candele sono aperte quell'indicatore si muove in linea generale qua fondamentalmente l'analisi tecnica qua risponde da manuale perché tu vedi sull'indicatore massimi e minimi decrescenti e trovi invece massimi e minimi crescenti sull'indicatore però in teoria guarda ad esempio come ti faccio trovare subito gli stop tu la prima divergenza la vedi tra il primo e il secondo frattale tu già la vedi la dicevergenza il furbone di turno c'è pure la pin bar appena praticamente c'è una rottura dei minimi si butta short in realtà guarda caso sulla seconda candela rossa rompe i minimi della pin bar attiva l'ordine se tu metti lo stop come dice l'analisi tecnica sul massimo nella candela quella dopo tu lo prendi lo stop e quello è il primo che ti prendi secondo stop che ti vai a prendere fondamentalmente è quello sulla seconda divergenza che è dato dal terzo frattale e questo mica ve lo dicono che vi dico guarda come funziona sì per carità alla terza volta funziona ma io vi dico ce l'avete voi il coraggio di mantenere la posizione dopo due stop di fila che prendete io vi dico lì no perché già alla seconda già se le è incazzati i neri già vi è incazzata alla prima se ripeto questo comportamento su n divergenze per te secondo te quindi è sbagliato e sarà sul lungo periodo perdente anche se è una regola comunque ferrea nel senso io posso anche ragionare solo sulle chiusure non sul sul momento in cui si forma il prezzo io comunque ragionando solo sulle chiusure magari anche applicando delle regole di money management riesco comunque magari a uscirne fuori invece secondo te non c'è proprio possibilità come diciamo a Roma non c'è trippa per gatti qua fondamentalmente ti spiego anche il motivo per il semplice fatto che questa condizione qui non tiene presente la volatilità gli eccessi di ipercomprato e di ipervenduto li possiamo andare a osservare o sul percentual R o sul percent B quindi il percentual bollinger perché c'hanno dentro la formula la volatilità questo il sissile la volatilità nella formula non ce l'ha semplicemente guarda gli eccessi dati dalle candele ma sempre in riferimento al passato arriva dopo infatti qua vi prendevate due stop al terzo andavate a guadagnare ma perché va detto fortuna che c'è stata diciamo l'allungo short in linea generale perché spesso e volentieri specialmente quando andiamo sul forex il mercato tende sempre a lateralizzare e quasi mai fa esplosioni quindi se andate a fare anche vi invito a farlo questo controllo del tutto statistico andate a vedere tutte le volte che le divergenze funzionano e tutte le volte che le divergenze non funzionano ecco ovviamente quando parte il trend non non c'è trippa per gatti come esattamente ma non è che parte il trend perché c'è la divergenza il trend parte perché probabilmente c'è c'è un altro motivo insomma quella è una mera conseguenza potrebbe essere un buon filtro se magari uno lo contestualizza all'interno di una strategia quantitativa perché no ma è un filtro non possiamo basare la nostra operatività su queste cose cioè a mio avviso è la cosa più sbagliata da fare io vi invito semplicemente a andarla a studiare una cosa del genere perché io vi dico che non funziona perché l'ho studiata ma fondamentalmente a livello diciamo oggettivo innanzitutto dobbiamo poi stabilire queste divergenze come si fanno se stanno sulle chiusure sui massimi sui minimi dobbiamo andare a vedere un metodo che usano usavano alcuni clienti che con cui poi mi dicevano le loro tecniche allora sì vedete questi sono tre casi di divergenze se secondo me non siamo riusciti cioè qui secondo me comunque prendevi anche forse più di uno stop però molti hanno una brutta abitudine di entrare a mercato appena sia la conferma della divergenza quindi magari molti vedete qui abbiamo il massimo poi questo oscillatore che è il primo a caso ma secondo me anche sullo stocastico o sull'RSI avremmo avuto comunque delle divergenze e iniziano ad entrare sell qui poi magari anche qui e iniziano di nuovo qui a martingalare o se il trend continua a salire ovviamente in questi casi ti fai male anche perché poi comunque non sai mai non hai mai una regola precisa se inizia ad entrare senza nessun tipo di stop non sai mai dove dove stopparti anche perché poi entrano in gioco anche un po' delle logiche a quanto posso definirla anche perverse dove si entra nell'ottica di dire che il prezzo prima o poi deve tornare magari verso la media deve comunque ritornare verso dei prezzi medi quindi si inizia a sperare e in questi casi questo sì è un approccio secondo me del tutto sbagliato non darsi delle regole si dice chi di speranza vive di speranza muore esatto esatto quindi però sul discorso della di lavorare sempre le divergenze secondo me se invece le lavori sulle chiusure e magari usando dei utilizzando degli ordini pendenti secondo me Marco non è proprio sbagliato perché comunque tu hai delle regole fisse ferrie e se ha anche del money management nel senso di dire ok ho preso due stop non vado a martingalare ovviamente le posizioni ma man mano aumento di una certa percentuale delle posizioni secondo me comunque sul lungo periodo male non ti fai ovviamente sul ma magari magari ci lavoriamo ma magari ci lavoriamo e vediamo se ci esce qualche qualche cosa di carino però come stai vedendo sì sì ma è solo per per parlare nel senso comunque adesso stiamo comunque anche stiamo analizzando vari aspetti quindi anche per dare poi anche un riscontro diverso quindi fare anche un confronto perché altrimenti poi in chat si annoiano e quindi è anche giusto fare degli esempi e vedere degli esempi operativi ok allora negli indicatori più comuni poi chiudiamo fondamentalmente allora per quanto riguarda gli indicatori quelli più comuni a mio avviso vi dico che tra i più comuni quelli che prendo seriamente in considerazione sono quelli che hanno all'interno del loro calcolo la deviazione standard e o la TR per il semplice fatto che la TR ci calcola a livello storico l'oscillazione tra massimo e minimo del diciamo del range del prezzo la deviazione standard invece ci calcola l'oscillazione dei rendimenti quindi tra minimo e massimo fondamentalmente c'è auto scusatemi tra apertura e chiusura delle candele che vengono prese in osservazione ovviamente le candele prese in osservazione le decidiamo noi in base al parametro quindi che ne so mettiamo la deviazione standard ci dice la metatrader che parametro di osservazione vuoi 10 12 14 2 1 ovviamente la deviazione standard più mettiamo il parametro stretto e più reagisce velocemente perché la deviazione standard è immediata sul prezzo praticamente non ci dà la volatilità storica ma ci dà una volatilità piuttosto immediata cioè ci calcola il presente sempre in base al passato però ci dà un valore attuale piuttosto atteso a livello matematico la deviazione standard si chiama anche scarto quadratico medio per indicarlo praticamente in termini semplici che cosa vuol dire lo scarto quadratico medio se noi prendiamo un gruppo di persone che viene chiamata popolazione statistica quindi cioè popolazione campionaria scusate a livello statistico tiriamo giù una statistica poi se noi andiamo a aggiungere un pezzo quindi una persona in più cento persone in più quanto si discosta dalla media quel valore quello scostamento dal valore medio al valore nuovo si chiama scarto quadratico medio ovvero quanto si discosta dal valore medio quel valore aggiunto ed è quello che serve fondamentalmente al trading perché che cosa si aggiunge si aggiungono le candele ogni volta che osserviamo un time frame se siamo su 5 minuti ogni 5 minuti si aggiunge una candela quindi in base al parametro della versione standard quindi più è stretto e più reagisce bene e quindi più ci dice un valore attuale piuttosto diciamo chiamiamolo un valore attuale piuttosto preciso l'ATR invece che lavora sullo scostamento tra massimo e minimo in base al valore di osservazione che noi andiamo a impostare a livello matematico fa una semplice media tra oscillazione massimo e minimo delle x candele che andiamo a osservare però questi a livello quantitativo a mio avviso sono quelli che sono più utili perché danno un valore atteso danno un valore probabile ovviamente un valore atteso un valore probabile non è un valore certo quindi può essere più o meno quello che ti dice l'indicatore sono utili perché ci evitano un sacco di calcoli in linea generale per andarci a trovare questi valori attesi pensate che quando c'era GAN insomma che lui studiava sulla carta millimetrata ovviamente GAN non c'ha niente a che fare con tutta quella roba che trovate sulla metatrader in generale non c'entra veramente niente con gli studi di GAN perché comunque le casiche GAN tanto era scettico che addirittura si comprava i pezzi di carta millimetrata studiava tutto sulla carta millimetrata e nel frattempo Giuseppe ci ha disegnato un quadro di Picasso No perché adesso ti devo fare una provocazione devo farti una provocazione esattamente quando è finito ti devo fare una provocazione e quindi fondamentalmente in linea generale proprio per la precisione dei calcoli che comunque dei casi nonostante sono piuttosto bizzarri quelli di GAN perché comunque andava a prendere il movimento degli astri la fisica l'astrologia buttata sul trading che comunque aveva un senso a livello matematico ma a livello logico a mio avviso mi fa un po' paura insomma perché è più da pazzi che da una visione oggettiva e fondamentalmente quindi quello che dobbiamo andare a cercare in un indicatore è un valore preciso un valore che comunque nei casi tiene conto della volatilità e quindi o che abbiamo la deviazione standard o che abbia la TR poi ovviamente questi valori qui si possono andare a moltiplicare un indicatore molto famoso è ad esempio il super trend il super trend va a moltiplicare un valore della TR per un valore di una media e quindi crea quello che è il famoso super trend i canali Keltner che molti mi vedono pubblicare ogni tanto hanno un valore della TR moltiplicato per un valore di una media mobile ha lo stesso discorso di Bollinger solo che Bollinger a posto del calcolo dell'ATR ha il calcolo della deviazione standard quindi sono tutte diciamo differenze a livello diciamo di calcolo che portano poi degli indicatori che sono curvilini ad invece degli indicatori che sono piuttosto rettilinei ad esempio quelli che hanno come valore l'ATR sono abbastanza rettilinei come indicatori mentre quelli che hanno le deviazioni standard sono molto curvilinei perché comunque hanno una reazione al prezzo più veloce poi meglio ancora se la mettete a livello esponenziale perché la media esponenziale è sempre quella più precisa rispetto a quella aritmetica adesso Giuseppe ti lascio la parola e mi spieghi diciamo il quadro premesso che io queste cose qui le ho anche viste nel senso che comunque molti tradano con tutta questa roba qui mi basta solo un sì o no da parte tua quali indicatori bar oscillatori salvi tra questi che vedi sul grafico partiamo dall'ATR lo salvi? l'ATR sì lo salviamo assolutamente MACD? il MACD no non mi interessa averlo questo cos'è Momentum Momentum non mi interessa averlo il Williams questo cos'è il Williams percent il percent non mi interessa averlo ciao l'Erim standard questo cos'è la standard deviation se ci mettiamo l'ATR non ci mettiamo la deviazione standard quindi a mio avviso va bene l'ATR quindi tra l'ATR e lo standard uno dei due perché bene o male ti riesco a trovare le formule per fare male mettiamo l'ATR perché a mio avviso è quello che mi piace di più in generale bravo sono d'accordo questo caso mi entra attenzione a come rispondi togli tutto attenzione a come mi rispondi sull'RSI perché io ci sono particolarmente affezionato allora l'RSI non lo salvo perché ti dico che bene o male a livello grafico te lo riesco a livello discrezionale non mi serve a livello quantitativo potrebbe essere utile quello sicuramente però ti dico che a livello discrezionale a me non serve l'RSI perché comunque in dei casi ti riesco anche tramite l'ATR normalizzando l'ATR ti riesco anche a ricreare l'RSI quindi è un'informazione inutile per quello che mi riguarda ok il CCI ti sei già espresso esatto e che l'altro che è un'altra ATR abbiamo semplificato l'ICIMOKU non lo voglio l'ICIMOKU attenzione perché va molto forte l'ICIMOKU nel senso che so che ci sono parecchi corsi su l'ICIMOKU è tornato cos'è la TECAN non so il cloud no no guarda io sono sono italiano parlo italiano qua giapponesi non lo conosco quindi togli Stichimoku qua che non non ci capisco niente mi confondo solo poi pure il parabolixar non mi serve e delle bande di bolliger le possiamo lasciare se vogliamo e togli queste tre mani qua mamma mia lo zigzag lo togliamo lo zigzag sì assolutamente non mi serve nello zigzag delle trend anche la media mobile la puoi togliere anche la media mobile ciao e frattals i frattali li possiamo lasciare guarda un po' siamo passati da un grafico futuristico a un qualcosa di leggibile non so se siete d'accordo con Marco io sì sono parzialmente d'accordo solo sull'RSI però hai detto che si può anche ricavare dall'ATR sì normalizzato sì basta che gli metti un tetto o quantomeno gli metti un livello tale che uno sui minimi diciamo uno per long uno per lo short ecco fatto l'RSI quindi fondamentalmente ci basterebbe solo quello a livello quantitativo ci potrebbe essere utile per comunque dei casi a livello più di programmazione che a livello di di operatività perché bene o male vi dico che per me ne possiamo fare a meno allora qui vi rimandiamo ai contatti fondamentalmente ho visto che oggi ci sono poche domande quindi va bene così qui qualcuno sono d'accordo con te sull'uso dei indicatori e oscillatori questi sono i contatti del nostro coach Marco quindi tu hai già inviato il link per eventualmente aprire il conto cosa altro aggiungere nel prossimo webinar che sarà verso la fine del mese quindi poi verrete anche avvisati via email parleremo della gestione del conto quindi di money management e poi entreremo nel vivo quindi come il training time per comunque adeguarci anche agli altri broker in competizione ci adegueremo e entreremo nel vivo nel mese successivo e quindi poi andremo a vedere proprio le strategie operative e quant'altro Marco se non hai nulla altro da aggiungere io comunque chiuderei il webinar sì non ho altro da aggiungere vi aspetto a fine mese bene o male spero che vi sia piaciuto e vi aspetto insomma qualsiasi domanda chiedetemi pure e niente vi aspetto a fine mese che entriamo nel vivo dell'operatività perfetto grazie allora a tutti e vi auguro come sempre buon trading